Eeeh, urca benurca a tutti ragazzi, benvenuti qua sul nuovissimo video di Ford Ci ritroviamo con i signori per andare a prendere il gettone scala livelli a vicino pinnacoli pendenti Prima abbiamo fatto quello di cappococcole, ora andiamo a vedere questo bellissimo bislacone qui a pinnacoli pendenti Magari facciamo una bella prospettiva del genere Ecco qua ragazzi, bella alt stamp house e andiamo a prendere appunto il gettone vicino a pinnacoli pendenti Si trova esattamente qui ragazzi, come potete vedere qua Dunque lo andiamo a prendere e andiamo su direttamente a livello 93 Bene ragazzi, ora ci vediamo direttamente con quello di Corcevia Colici Un bacione veramente bislacone Lucius, a tra pochissimo Aieh